Il ritorno dell'Abruzzo in zona rossa per un giorno ha scatenato moltissime reazioni politiche con il centro-sinistra che ha sferrato un attacco durissimo al governatore Marsilio. Secondo loro è l'unico governatore in Italia che ha fatto una cosa del genere prendendo a loro giudizio in giro gli abruzzesi. Un ritorno in zona rossa veloce perché il ministro Speranza già la domenica ha decretato, come si sa, per l'Abruzzo l'arancione. La decisione del Tarra si basa su un presupposto. Le regioni, dice, possono autonomamente adottare i provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo, mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d'intesa con il ministero della salute e qui si spiega l'ok al governo e mentre Marsilio lo attacca il centro-sinistra gli chiede di tornare ad avere un atteggiamento collaborativo con il governo. I Dem sostengono che il presidente sapeva benissimo che con la scelta di mettere l'Abruzzo in rosso il periodo di restrizioni sarebbe stato di 21 giorni e non di 19. Durissimo il commento dell'onorevole Pezzopane. Il Tarra ha riportato l'Abruzzo nella legalità perché Marsilio l'aveva con la sua ordinanza a farlocca portato in una situazione di illegalità. In Abruzzo non c'è mai stata la zona arancione perché il presidente non poteva assumere quella decisione. I poveri commercianti e le attività sono state letteralmente prese in giro. Il Tarra è inequivocabile, non poteva Marsilio prendere quella decisione e ha messo in pericolo la salute pubblica. Il ministro Speranza ha immediatamente sottoscritto l'ordinanza che riporta in zona arancione, stavolta davvero, da domenica tutto l'Abruzzo. Al presidente Marsilio gli chiediamo di smetterla di fare la propaganda e di mettersi a fare il presidente, magari facendo subito un provvedimento che ristora i commercianti di quello che oggi perdono in termini di incassi, sposti, somme per le sue capricciose iniziative tipo Castel di Sangoro e il Napoli Calcio per i commercianti e lo faccia subito, oggi stesso. Fatto sta che i negozi aquilani sono rimasti chiusi con annunci dell'ultimo minuto sulle loro pagine Facebook ma anche qualche scuola, a quanto se ne sa, non ha avuto i tempi tecnici per chiudere. È il caso ad esempio della Mazzini dove gli alunni sono stati in presenza.